Per ora è abbastanza staccata, quindi qualche problema ancora c'è. Hanno cambiato allenatore, c'è Gregucci, che è uno che penso riesce a trasferire la grinta e cuore alla squadra. Io mi auguro che noi l'abbiamo più grande. E' una squadra che ha poi discorso 3-5-2, che oggi dicono che lo giocano in tanti, poi di solito si giocano a 5. Quindi è una squadra che cerca di non far giocare, ripartire come tante altre squadre in Serie B, non solo in Serie B, anche in Serie A. Ma io mi ricordo che dopo la partita con la regina io ero contento e felice, come si è espressa la squadra. Poi è normale che i risultati si giocano ancora su episodi e quelli ci sono stati contro. Però la squadra è andata a Reggio Calabria, che era un campo difficile, dove ancora c'era entusiasmo. Per me abbiamo fatto molto bene sul piano di gioco. Pinsini è recuperato, l'ho detto già l'altra settimana. Poi attualmente non ha problemi e quindi è a disposizione. I ragazzi sono contenti che siamo tornati qua. Poi magari qualche problema c'era, ma non sono problemi gravi. Nel senso che abbiamo provato altri due campi. Ma io dico che finora la società ha fatto sempre quello che doveva fare. Non ci sono problemi, non ci stanno problemi. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi, ma non ci sono problemi. Grazie a tutti.